Spampi, adesso che arriviamo la carichi sul mio e te la faccio io. Ma non quelli corici a punta, sono proprio... Capito? Ti ho detto, quando arriviamo la carichi sul mio furgone e mi arrangio io a tirartela giù la vita. Sono le 10. Cazzata delle 10. Quando frego te li vedi. Sì, sì, che possa fare per l'altra parte. Te la fa stagionare un paio di settimane avanti e indietro. No! Tieni questa in impegno, non è mica un problema. No, 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 non voglio usare l'impegno. Se voglio la mia, basta, ci penso io. Non mi trovo più, se mi dà quella io mi trovo più. Usciamo, no, non ci sono. No, non posso, devo lavorare. Non mi trovi più dopo, spampi. Ti dico, ieri tiro su queste, queste. Metto entro la chiave e già gira. Figa, è già spannata questa. Infatti si vede che rotonda. Madonna, la vita è spannata. Nel momento non la vedi, eh. La vedi, la vedi. C'è dentro il selettore delle marce. Ci cercano. Ci cercano e su qua. E là, eccolo. L'hai preso, boccane. Dico, quanto male l'hai preso. Oh, sentendo. Andiamo a caldo.